Musica Benvenuti alla Rassegna Stampa Occhio ai Giornali di Fano TV del 5 ottobre 2016 Allora cominciamo con il santo di oggi Oggi è una santa, una santa importante, l'apostola della Divina Misericordia, Santa Faustina Kowalska Che è morta nel 1938 e alla vigilia praticamente della Seconda Guerra Mondiale Nel 1978 venne eletto Papa Giovanni Paolo II Durante il suo pontificato egli proclamò Santa Faustina Beata E istituì la festa della Divina Misericordia Il sole sortò alle 7.10 e ci tramonterà alle 18.42 Il tempo previsto per oggi e i prossimi due giorni Oggi avremo il cielo sereno poco nuvoloso con temperature che dalla serata potranno scendere Ci saranno anche brevi piovaschi sulla fascia collinare I venti saranno moderati, il mare molto mosso Domani, giovedì 6 ottobre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso L'aumento della nuvolosità a partire dal pomeriggio Con precipitazioni, con pioggia anche dalla serata di domani giovedì Devoli piovaschi, occasionali rovesci in estensione nelle zone interne della costa Le temperature sono in diminuzione Venerdì 7 ottobre la giornata peggiora ancora di più Con pioggia nella mattinata Localmente anche a carattere di rovescio Il pomeriggio un po' migliora Insomma bisognerà ancora attendere gli ultimi modelli Per capire quando ci sarà questo passaggio dal cattivo al bel tempo Le temperature sono in aumento Sabato dalla serata ci sarà un peggioramento ulteriore Con fenomeni di instabilità per domenica e l'inizio della prossima settimana Siamo in autunno insomma Adesso andiamo a vedere i giornali Il Corriere Adriatico Ecco la foto grande, bella Con il Papa, Papa Francesco Che ieri si è recato in visita nelle zone terremotate Promessa mantenuta, questo è il titolo scelto dal Corriere Per evidenziare questo evento Il Papa tra i terremotati ha detto a loro ce la farete E dona un rosario alla bimba salvata Torni a trovarci, c'è chi chiede di rivederlo E lui non dice di no Le mamme di Arquata sono sul piede di guerra La nonna passionaria per il bene di Sofia Sono tutti argomenti che troverete nelle pagine interne Del Corriere di oggi Prego per voi ce la farete Francesco tra i terremotati di Arquata del Tronto Si è commosso guardando le macerie di Pescara Del Tronto Chiaramente nelle tendopoli un'accoglienza straordinaria Il Pontefice Il Pontefice non ci lasci soli Torni ancora a trovarci C'è chi ha detto appunto a Papa Francesco Ha scelto il giorno che celebra il frate di Assisi Per andare a trovare le popolazioni ferite A morte dalla sisma Fuori i nostri bimbi Lo sfogo di Arquata Mamme deluse per fare spazio A quelli di Acqua Santa Benedizioni, sorrisi e carezze Tra il Papa e gli alunni terremotati Immagini di una giornata indimenticabile Amarezza per l'arrivo degli studenti di altre scuole La dirigente poi a un certo punto sbotte Dice insomma siamo tutti uguali La nonna passionaria dicevamo E il rosario donato alla bimba salvata Un giorno insieme a chi ha parlato con Francesco Incontrarlo per noi è stato un sogno E ci ha dato coraggio Andiamo sull'altra pagina Del Corriere Adriatico Parlavamo ieri e l'altro Di questi giovani che bevono sin da ragazzini Quasi bambini a 13 anni C'è questa moda di bere Questo sballo compulsivo Un minore su due fa abuso di alcol In bici dopo aver bevuto È caduto badibola rotta Ma grazie ai vigili gli incidenti alla Baia Sono in calo Ancora questo argomento Che parte da Pesaro Dove c'è stata questa segnalazione Dove c'è stato questo caso di questa ragazzina Che tra l'altro è stata abbandonata anche dagli amici Perché a quell'età poi a un certo punto Uno si sente grande Ma di fronte a cose come queste Si ha paura e quindi si scappa Non si sa come reagire Non si sa che cosa fare La ragazzina è stata lasciata sola Lì abbandonata Quasi in cometillico Dalle sue amiche e dai suoi amici E non va meglio al campus scolastico Dove però gli studenti si chiamano fuori Ci sono siringhe a terra Ci sono giri strani Però solo la sera Il preside Rossini dice I bidelli al mattino sono costretti a pulire i bivacchi Del giorno prima Oggi c'è un incontro in prefettura a Pesaro La provincia ha già promesso di riattivare le telecamere Questa è l'ingresso del campus Con a sinistra il preside Rossini Dell'istituto Marconi Coprifuoco invece per le slot machine Un'altra notizia che troverete sul Corriere Adriatico di questa mattina da Pesaro Tra una settimana inizieranno i controlli Il comandante dei vigili della Polizia Municipale di Pesaro Galdenzi Si dice qualche giorno per adeguarsi poi partiremo E faremo i controlli I nuovi orari piacciono anche ai gestori Che a volte faticano a chiudere le attività Poi c'è la notizia della spiaggia dei cani Sempre da Pesaro E il no dei bagnini a sottomonte CNA e Artigianato dicono meglio La disponibilità dei singoli gestori Ad ospitare gli amici a quattro zampe La pagina di Favo del Corriere Quasi 400 pasti al giorno In campo a turno 60 volontari Il gruppo fanese della protezione civile È ancora al lavoro ad Arquata del Tronto Nella fotografia vedete i volontari Che sono addetti alla cucina Lì ad Arquata Con il responsabile Saverio Olivi Che dice la terra tremancora E ci vorrà tempo per la ricostruzione Sulla ferrovia invece Il Partito Democratico fa solo demagogia Per la Will la regione non vuole riaprire la Fanno Urbino Serve un progetto europeo Il Santa Croce può ampliarsi Può ospitare reparti e servizi Possibile la lista Rilancia il modello ospedaliero policentrico Non vogliamo l'ex ospedale Questo è un rendering Lo vedete in questa immagine pubblicata sul Corriere La pagina di Fanno Un rendering del Santa Croce Così come dovrebbe essere secondo il progetto Dove visualizzati ci sono i volumi Che si potrebbero aggiungere All'attuale ospedale Ora giudicate voi Chiaramente Questo è un rendering È un progetto Ruscitti ha calcolato la disponibilità Di 10.000 metri quadrati La regione chiede O meglio Si chiede alla regione Di cambiare strada Andiamo adesso Sull'altra pagina di Fanno del Corriere Guardate questa nuvola di fumo Eccola qui cerchiata La cerchiamo con il rosso Ecco una nuvola di fumo Una colonna di fumo Che ieri mattina si è alzata In cielo dallo stabilimento Dalla Profilglas di Bellocchi Il titolo ancora Fumo dalla Profilglas Torno nei timori dei residenti La colonna si è alzata Dalla fabbrica Alle 7.50 del mattino Ed è l'ennesimo episodio Anomalo A differenza dell'incendio di luglio Le esalazioni si sono disperse presto Poi Mediateca Montanari Da potenziare e rilanciare I consiglieri 5 Stelle Chiedono trasparenza E aperture più estese Libri catalogati in digitale Così si apprende un lavoro Sempre da Fanno La stanza dei grandi Mira a formare giovani disabili Per l'inserimento e l'occupazione Nella fotografia Vedete assistenti e giovani Diversamente abili Che hanno partecipato A questo progetto Che si chiama appunto La stanza dei grandi L'UNESCO cerca 10 giovani Nelle Marche Per partecipare al Comitato Nazionale Che promuoverà Una serie di iniziative La Valle del Cesano Si abbassino le tariffe Della mensa L'introito è superiore Ai costi reali E poi i lavori Siamo a Urciano I lavori al Via Entro febbraio Stiamo parlando Della voragine Il sindaco rassicura I cittadini Assemblea Calda d'Urciano Sul mancato ripristino Della strada Dopo un anno E ancora da Senigallia Senigallia Ex colonie Enel Alte 21 metri Sul lungomare del futuro La variante approvata in commissione È stata bloccata La pedonalizzazione E poi ancora Un ragazzino Che è stato respinto All'ospedale di Senigallia Aveva una frattura Ad un braccio La mamma si rivolge Al Codacons Che denuncia Però la replica Dell'ospedale Dicono È stato un malinteso Malore al lavoro A Vallefoglia Arriva Icaro Icaro è l'elicottero Il 118 Un'impiegata Si è sentita male Negli uffici Della Sarad Gruppo Sigel Di Talacchio Dopo l'intervento Del 118 È stato necessario Il trasporto In eleambulanza Ad Ancona E poi Vedete La fotografia Di Vito Rosaspina L'ex presidente Della regione Rosaspina Che si è rotto Il bacino Cadendo in casa L'anziano politico È stato ricoverato A Galantara Chiudiamo con La pagina di Pesaro In provincia Del Corriere Dove c'è La notizia Di Matteo Ricci È sfumato Per lui La presidenza È sfumata Per lui La presidenza Del Lanci L'Associazione Nazionale Dei Comuni d'Italia E però Per lui Matteo Renzi Ha pensato Ad un incarico Nella segreteria Nazionale Del Partito Democratico È infatti Il nuovo responsabile Per gli enti locali La svolta Di Renzi In serata Segna la fine Della corsa Alla presidenza Del Lanci Resta aperta La questione Marche E adesso Andiamo a leggere Le pagine Del resto Del Carlino Questa è la Fotonotizia L'edilizia A terra Crollo dei cantieri Nemmeno Le ristrutturazioni Salvano Il settore Ma ci sono Alcune imprese Che resistono Bene Poi anche qui Vedete C'è la notizia Di Ricci In segreteria Nazionale Del PD Renzi Lo nominerà Oggi responsabile Agli enti locali Sfumata La presidenza Del Lanci Rapina Le poste Sei manette Due Le donne Sgominata I carabinieri Banda Banda All'ufficio Di Pieve Di Cagna E poi Da Fano Sempre dal resto Del Carlino Tavolini E De Ors Il comune Detta Le regole Nuove prescrizioni Per i commercianti Serve per uniformare Gli arredi In centro storico Le reazioni Capecchi Non ci sta La città è viva Non è mica un museo Il presidente Del commercio Pensassero Alle barriere Dell'interquartieri E in effetti Anche lì Anche se A reporto È scattata La corsa alle quote La società Eagle E Fly Si propongono Ai soci pubblici Operazione Da un milione Di euro Schiavoni Della Camera Di commercio Dice Mai buttato via Soldi Pubblici E con questo Chiudiamo qui La rassegna Stampa Occhio Ai giornali Di questa mattina Naturalmente Torna Domani Le 7.30 Con tutte le repliche Durante Il giorno Stasera c'è il telegiornale Occhio alla notizia Prima di salutarvi Però Devo Darvi una comunicazione Se vogliamo Di servizio Oggi e domani Qui Nella sede Di Fano TV Verranno effettuati Dei lavori Dei lavori Di ristrutturazione Molto importanti Di fatto In gergo Si chiama Ricablaggio Della regia televisiva Quindi verrà Completamente Smantellata E rifatta da capo Con tante migliorie Che serviranno In particolare A migliorare Decisamente Il suono Cioè L'audio Che arriva Nelle vostre case Un investimento Importante Quello che abbiamo Fatto Per migliorarci Per portare Un servizio Sempre più Efficiente Nelle vostre case E soprattutto Per darvi La possibilità Di vedere E di ascoltare Bene Quello che Noi vi proponiamo Nei nostri servizi Nelle nostre dirette E quant'altro Quindi In questi due giorni È facile Probabile Che ci siano Di servizi Delle interruzioni Ecco Vi chiediamo scusa Sin da adesso Sono due giorni Oggi e domani In cui ci saranno Questi lavori Di adeguamento Degli impianti E quant'altro Quindi Portate pazienza Per ora è tutto A voi Non mi resta che augurarvi Una buona giornata Arrivederci E poi Grazie a tutti.